Il Servizio di Assistenza Psicologica dei Dipartimenti di Psicologia Generale e di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione offre agli studenti universitari aiuto e assistenza per problemi personali e di carriera scolastica. Al servizio possono far riferimento tutti gli studenti dell'Ateneo con situazioni di disagio psicologico, difficoltà nello studio e in cerca di informazioni o assistenza per problemi sull'uso di alcol, tabacco, droghe, HIV e infezioni sessualmente trasmissibili. Per maggiori informazioni vi rinviamo al sito del servizio. Scadrà il prossimo 29 novembre il bando di concorso per le 10 borse di studio bandite dall'Accademia Nazionale dei Lincei. Gli studenti e i laureati che fossero interessati a partecipare possono contattare direttamente l'Accademia dei Lincei. Ed ora la rubrica al dentista. La nostra dentista ci presenta oggi il professor Romania. Buonasera a tutti e ben ritrovati anche quest'anno nello studio del dentista di Telebue. Questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi, seduto sulla nostra poltrona del dentista, il giovanissimo professore Vincenzo Romania, docente di sociologia della comunicazione presso l'Università di Padova. Buonasera professore. Bene, io direi che se lei è d'accordo potremmo iniziare questo controllino che mi dice se mi raccomando lei stia tranquillo, non si agiti troppo e alle mie domande risponde in maniera precisa e rapida. D'accordo. Ok, quando è pronto, se mi dici che è pronto, andiamo. Pronto, obbediente. Bene, dunque iniziamo. Chi è Vincenzo Romania? È un giovane professore, come dicevi, che si occupa di sociologia della comunicazione, cerca di lavorare sulla comunicazione faccia a faccia, in qualche modo anche di smontare cornici e pregiudizi che tutti noi ci portiamo appresso. Stato d'animo attuale? Abbastanza rilassato. Descriva il suo corso in una frase. Descrivo il mio corso in una fase. Un corso di autocritica e autoriflessione. Quindi per lei più faticosi gli esami o le lezioni? Per me probabilmente sono più faticose le lezioni anche perché faccio esami scritti, quindi non è tanto la difficoltà di sgamare i bigliettini quanto di costruire lezioni interessanti. Per gli studenti probabilmente sono più pesanti gli esami, la preparazione degli esami. Probabilmente, sì. Cosa preferisce nei suoi studenti? Cosa preferisco? Preferisco gli studenti che non hanno una visione troppo utilitaristica della lezione e quindi che non partono con l'idea vado a raccogliere più appunti possibili, vado a schematizzare più possibile, così studio presto e prendo velocemente un voto. Beh, e di conseguenza che cosa manca al suo corso? No, il mio corso tutto sommato non manca tantissimo. Mi piacciono le persone che riescono a creare, a mettere anche in difficoltà il professore quando serve, ad utilizzare quegli schemini che tutti noi facciamo in maniera un po' nozionistica per applicarli alla loro vita quotidiana. Canta sotto la doccia? Sì, normalmente sì. E suona qualche strumento? Non sotto la doccia, però suono tastiera e chitarra. Chi è il suo musicista preferito? Il musicista preferito è difficile. Posso dirne uno per ogni strumento? Beh, veda lei. Allora, pianista credo Brad Merdau, Malbasso, Jacopo Pistorius, chitarra Pat Metini. Ok, cantante? Cantante, ho una voce che assomiglia a Tom Waits, per cui mi ispiro tanto, mi piace tanto. Rock o pop? Assolutamente rock. Classica o jazz? Jazz. Cravatta o papiglioni? Possibilmente nessuno dei due. Vino o birra? Vino tutta la vita. Beyond o more? More. Metta in ordine di preferenza, trascorrere un'ora con un libro, un film, un programma TV, un disco, una rivista di enigmistica. Ma tutto sommato un film. Vecchio, nuovo, nuovissimo ordinamento. Al di là che non esiste il nuovissimo ordinamento, ma tutti lo chiamano il nuovissimo ordinamento, comunque probabilmente il nuovo ordinamento. È favorevole alle proteste che si stanno svolgendo in questi giorni in tutta Italia? Assolutamente sì. Ci sono anche proteste, scusi se ne interrompe, proteste originali, perché per la prima volta nella rivolta studentesca non c'è praticamente nessuno che non protesta. Da professori a rettori, a amministrativi, a studenti. Pro o contro la proliferazione delle sedi universitarie o dei corsi di laurea? Abbastanza contro la proliferazione dei corsi di laurea, meno rispetto ai campus, perché tutto sommato la dimensione raccolta dei campus universitari può essere utile alla didattica e anche alla ricerca. In un'università italiana sono stati individuati almeno 230 docenti imparentati fra di loro. Non saranno un po' troppi? Assolutamente sì, sarebbero troppi anche 23. Però quello è un problema generale dell'università italiana e non solo, perché il discorso del lobbying è un po' un discorso classico di tutta l'università europea. Però il lobbying diventa molto più forte quando le risorse diventano più scarse e quindi diventa più forte in Italia anche per quello. E perché lei ha scelto di fare il professore? Ma è stata abbastanza comica, nel senso che a un certo punto della mia vita mi ero laureato, ho fatto l'anno di perfezionamento, non volevo più fare il professore, facevo della segna stampa per una rivista a Milano e lavoravo critico cinematografico. Poi sono andato ad un convegno che era obbligato nel mio perfezionamento e il professore si chiamava Marradi a cui ho fatto delle domande mi ha detto provo il dottorato. Sono andato in Internet Point, mi trovavo a Firenze, il primo dottorato era a Padova, quindi quasi del tutto casualmente ho provato, l'ho vinto, poi ho trovato persone che mi hanno stimolato come il professore con cui collaboro che si chiama Guizzati, quindi ho deciso di continuare questa carriera. E invece da bambino che cosa sognava di fare? Da bambino avevo 4 anni, la mia casa, la Cella Ionica, era accanto all'hotel dove si provava il festival jazz, per cui entravo, sgattaiolavo e chiaramente che ne so, assistevo alle prove dei concerti di cicoria o di questi grandi del jazz per cui il sogno era suonare, chiaramente. Ma che studente universitario era lei? Ma abbastanza pessimo come studente universitario, nel senso che i primi 2-3 anni non ho seguito, poi i voti che prendevano tutti abbastanza alti, però ho seguito sempre e soltanto i corsi che mi piacevano, come quello di Ferrerotti, quelli di metodologia, perché mi interessavano. Però per il resto studiavo in pochi giorni, arrivavo, facevo gli esami la mattina, tornavo a casa la sera in Calabria, per cui... Quindi devo dedurre che non è mai stato bocciato? Non sono mai stato bocciato, ho rifiutato un vuoto. Non ha mai accettato un 18? No, mi manca. Le tre cose che porterebbe in un'isola deserta? Isola deserta. E porterei la chitarra, perché è un po' tipo il clarinetto di Dylan Dogg, te lo porti appresso quando vuoi esprimere qualcosa, quando vuoi stare un attimino da solo, quindi su un'isola c'è spazio. Poi magari porterei un libro di poesie, che potrebbe essere uno scusa per musicarle. E di che autore? Forse per l'isola Emily Dickinson potrebbe essere. Brevi, rifletterci tanto, cesellinarle, eccetera. Magari un disco da Enneagramaro per ricordarmi di non tornare più. Ok, mi sembra che siamo a tre. Quindi, sa stirare una camicia? Assolutamente no. Bene. Non è mai stato tentato dal superanalotto? No, non l'ho mai provato. Un aspetto inquietante che intravede nel futuro? Allora, aspetto inquietante che intravede nel futuro? Non ne intravedo tantissimi. Perdita, spettacolarizzazione o se vuoi anche televisizzazione di tutto il potere. Una domanda di sincerità. Nel suo lavoro, il talento, l'impegno o le raccomandazioni? Allora, io ti dicevo ho avuto la fortuna di vincere in un Ateneo diverso dal mio, quindi provarci. Per cui, nell'Ateneo di Padova, nella mia esperienza, per fortuna, non c'è stata la raccomandazione. Però, al di là dei 230 che citavi prima, è un sistema più che di raccomandazioni, di cooptazione, che significa che ognuno sceglie il proprio assistente, il proprio parente, la propria moglie, la propria amante, più spesso. Alcuni più capaci, alcuni meno. Per cui, è un sistema che, in Italia in generale, contempla anche le raccomandazioni. Ma lei sa quanto ammontano le tasse universitarie? Dipende dal reddito, ma saranno sui 1.500-1.600 euro l'anno, secondo la situazione. Cosa li imbarazza di più? Aumenteranno, chiaramente. Sì, aumenteranno. Cosa mi imbarazza di più? Beh, ci sono situazioni, sono abbastanza timido, per cui ci sono situazioni che mi imbarazzano. i dentisti, molto. Non una situazione in particolare, comunque. La sua materia l'ha aiutata nella vita? Assolutamente sì. Sociologia di base è lo studio della socialità, dell'avere qualcun altro sempre presente, anche quando sei da solo. Sociologia della comunicazione è di più, perché studi la comunicazione faccia a faccia, la vita quotidiana. tante volte è anche la vita che ti aiuta a capire qualcosa della sociologia, perché trasporti nelle lezioni, nei libri, anche quello che ti capita quotidianamente. La sua citazione preferita? Citazione preferita? Allora, è un pezzo di Beppe Fenoglio che viene riportato in una canzone dei CSI che si chiama Linea Gotica. Dice Alba la presero in 1000, il 10 ottobre la persero in 200, il 2 novembre del 44, non si teme il proprio tempo, è una questione di spazio. Bene, e adesso le diamo la possibilità e la libertà di dire quello che vuole, di dare un messaggio ai suoi studenti. Prego. Di dare un messaggio ai miei studenti? Provate a prendere l'università come qualcosa che vi fa divertire, a usare le lezioni per imparare, imparare qualcosa che non significa soltanto contenuti, ma è anche imparare di imparare. Quindi, imparare a prendere meglio tutto quello che vivete quotidianamente, anche come esperienza. Bene, io direi che anche per oggi abbiamo finito, quindi noi le ringraziamo tantissimo per la sua disponibilità e arrivederci alla prossima volta. Grazie a voi.